La questione dell'Islam, la questione della società aperta si ripropone come sfida dell'Europa proprio mentre siamo alla vigilia del sessantesimo compleanno dei trattati di Roma. Furio Colombo. E allora mi chiedi di dire se sono in favore di una società aperta o di una società chiusa. Questa è la domanda? No, che cosa pensi di tutto quello che stiamo vedendo? Perché c'è il dibattito politico aperto, c'è un ennesimo attentato e c'è una sfida difficilissima che è quella della società aperta. Ma dunque c'è un problema e questo lo sappiamo. Condividiamo, se ci mettessimo a descriverlo e tu in parte l'hai fatto molto bene, condivideremmo tutti la descrizione. I fatti sono quelli che sono. Poi c'è il problema, tipico il capezzale del malato. Se questa è la diagnosi e in questo concordiamo, qual è la prognosi? Il problema è chiudere tutto in modo che non filtri più un'ombra di islamismo oppure credere che le società aperte sono molto più forti delle società chiuse, le società libere sono molto più forti delle società tiranneggiate, che il rispetto dei diritti umani e dei diritti civili rafforza come una vitamina poderosa il corpo sociale e che quindi il pericolo sul quale concordiamo e che è gravissimo si combatte con il coraggio di essere se stessi, il coraggio della propria civiltà, il coraggio dei propri principi. Allora Furio Colombo ha fatto anche egli una splendida analisi.